Buonasera a tutti, oggi è venerdì 26 aprile, sono le 22.06 e ritorniamo a parlare di analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Che cosa è successo? E' successo che qui abbiamo iniziato dopo la condizione necessaria e sufficiente per una chiusura di settimo t-3 e anche di ciclo settimanale, abbiamo iniziato un rimbalzo. Attenzione perché in questo periodo davvero, non so come dire, ne vediamo tante, comunque chi fa trading con me nel gruppo premium ne vede veramente tante e sono io a sottolineare appunto ogni singola cosa divertente che capita, anche se oggi è andata di nuovo bene come trading. Quindi 23 aprile e poi un rimbalzo, questo rimbalzo è stato fermato come vedete dalla media mobile a 50 periodi che ha iniziato ahimè a incrociare verso il basso e quindi è andata in death cross rispetto a quella a 200 periodi o comunque quella in blu che è la più lenta e questo che cosa ha creato come effetto? Che creando una resistenza non ha permesso ai prezzi di salire, quindi i prezzi sono riscesi sotto persino la media mobile, quella più lenta, hanno lateralizzato un bel po', poi con l'arrivo delle notizie alle 14 e 30, rivediamo un attimo cos'era uscito che non mi ricordo più, mi ricordavo soltanto 14 e 30, sì, l'indice dei prezzi delle spese personali, ok, benissimo, uscito alle 14 e 30 che cosa è successo? Candela rossa, ok, annullata completamente da una candela verde che ci dava un possibile segnale long rialzista e poi di nuovo candela rossa, quindi che effetto hanno avuto quelli che venivano chiamati market mover delle 14 e 30 di oggi negli Stati Uniti, hanno avuto un effetto sostanzialmente annullato dalla candela successiva finta ribasso, finta rialzo, di nuovo ribasso, poi successivamente discesa e poi siamo risalendo praticamente vicino ai prezzi da cui eravamo partiti, effetto dopo il brevissimo periodo per ora nulla. Mi piacerebbe peraltro invitare e magari fare qualche o diretta o comunque video con un analista che si occupa di macro per dare sempre una duplice visione delle cose in modo che anche se il nostro metodo ci racconta determinate cose potremmo eventualmente fare un controcanto, non so come dire, una cosa che trovo possa essere magari interessante, fatemi sapere se vi può piacere come discorso. Sul canale ho lasciato due sondaggi, il primo sondaggio è relativo agli indici, chiedo se appunto torneremo sopra i top, sopra il massimo assoluto fatto oppure no, la maggior parte della gente dice di no. Vedremo, per adesso siamo quasi al 50% di persone che dicono di no. Per quanto riguarda invece una domanda più semplice, se preferite avere video più lunghi, più corti o altro, la maggior parte della gente dice che preferirebbe analisi ancora più lunghe rispetto a comunque un buon tempo che metto a fare un'analisi su bitcoin tra i 7 e i 20 minuti, anche di più a volte, mediamente sui 10-15. Oppure se sarebbe meglio fare dai 5 ai 9 oppure più corte. Più corte meno di tutti, per adesso la scelta più bassa in assoluto. Teoricamente alla gente va bene una durata tra la media e la lunga, quindi siamo a un 65% di persone che preferirebbero, nella realtà dei fatti, analisi più lunghe o comunque che vanno bene come sono. Se avete piacere partecipate e diceci giustamente la vostra. Ritornando a noi, perse le due medie mobili che sono andate appunto in death cross. Adesso siamo arrivati a quanto? Del T-3e? Certo che di forza ne ha persa tantissima rispetto alla partenza. Siamo scesi sopra il 50% di Fibonacci, non sto neanche a tirarlo. Qui possiamo essere ancora a 35% più tot barre. Siamo a 41esima barra, potremmo andare tranquillamente fino alle 0030 per vedere la chiusura della 44esima. Qui però abbiamo già una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura, anzi più che sufficiente per la chiusura del nostro primo o comunque attuale T-3e. Da qui per ora abbiamo più di 5 barre sopra questo minimo che ci dicono che senza la conferma degli swing, quindi vedremo, da qui può essere in partenza un secondo T-3, un secondo ciclo giornaliero. Facciamo sempre attenzione perché a volte Bitcoin ci fa vedere 8,9. Qui abbiamo avuto una violazione di uno swing ma non una conferma di un nuovo T settimanale in termini appunto di swing, oggi ve lo dico chiaramente. E per confermare una partenza comunque di un settimanale abbiamo bisogno di 48 barre, quindi ce l'avremo questa mattina dopo dalle 3.30 in avanti. Siamo purtroppo in bilico in questo momento. Abbiamo avuto un segnale rimangiato sul Tecnica 2 su questa candela. Stiamo vedendo se riusciremo a superare questa prima resistenza, che è appunto fondamentale quella della media mobile, e successivamente a provare a ritrovare i top. Questo perché? Perché abbiamo parlato soltanto di indici in questo momento, non abbiamo parlato di inverso. Di inverso che cosa abbiamo avuto? Dopo un terzo ciclo giornaliero inverso a 28 barre, abbiamo avuto un quarto T-3 inverso che, arrivando su questo massimo, ha trovato una chiusura? No, ahimè no. Ha fatto 22 barre. Il rischio è che sempre ci si trovi di fronte al raccordo di grado T-4 tra T-1 e che quindi ci sia stata una finta a scendere con risalita verso i massimi e poi si sia effettivamente partito il quarto T-3. Questa è una delle possibilità, non la scartiamo, se riuscissimo a tornare stabilmente per almeno un toti tempo in quest'area, se tornassimo in quest'area effettivamente avremmo la possibilità di capire se volevano chiudere lì o meno. Ma attenzione perché qui possiamo anche avere avuto semplicemente un T-4 inverso, secondo T-4 inverso e noi stiamo seguendo appunto un'area volumetrica che si trova orientativamente in quest'area qua. Adesso l'assegno perché ce l'avevo. Area volumetrica. Per cui se trovassimo la forza di superare appunto la media mobile, intanto è una cosa che tutti possono vedere e non devono comprendere l'analisi evoluta per capirlo, avremo spazio per vedere se hanno voglia di provare ad entrare nell'accumo e farsi risucchiare su con la regola dell'accumo. Questa è una delle possibilità. Viceversa, conviene comunque in ogni caso mettere qui un allarme. Un allarme per capire se stiamo per andare a chiudere un T-3 oppure chiusura T-3 o vincolo ribassista. In questo modo abbiamo il duplice controllo che ci permette di comprendere sia con dei volumi qua sopra che con un potenziale vincolo ribassista ma dopo la 44esima barra che cosa fare. Dopo la 44esima barra significa che quel vincolo ha una valenza effettiva solo a partire dalla mezzanotte oppure dall'1 e un quarto. Ancora meglio dall'1 e un quarto per sicurezza. Se ci andassimo sotto dall'1 e un quarto avremmo effettivamente un nuovo T-3 vincolato a ribasso. Per questo motivo occhio a questi livelli volumetrici, a questi due e allarme qui sotto. Mi raccomando fate sempre attenzione perché durante il weekend è sempre abbastanza difficile che ci sia una volatilità più alta che durante la settimana. Domani appunto tra poche ore in realtà è sabato e poi ci sarà come al solito domenica che tendenzialmente permette movimenti interessanti soltanto dal pomeriggio in avanti. Mi auguro che tutto vi sia chiaro, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. La mia sarà sicuramente perché ho già deciso così. Se vi è piaciuta l'analisi mettete un bel like che fa sempre piacere. Buona serata a tutti! Grazie a tutti!